e quindi non è che loro hanno sperimentato mille volte e poi hanno capito le proporzioni e sono arrivato al risultato ma semplicemente è un copiare qualcosa che i miei nonni facevano, che i miei bisnonni facevano quindi è qualcosa che si ripete ma che non c'è nessun studio scientifico o comunque chissà che cosa delle proporzioni, della quantità eccetera eccetera comunque lei dice che queste persone bullizzano i suoi followers, la sua community e che lei non l'accetta perché lei non vorrebbe mai che i suoi seguitori, i suoi followers si sentissero esclusi, offesi o giudicati per quello che sono e per quello che è la loro vita soprattutto nell'aspetto economico e quindi lei è pure messa quasi a piangere, mi ha distrutto veramente vederla in quella condizione che è qui